ActiBuilders Se ai tuoi bambini piacciono le costruzioni con i mattoncini, adoreranno i nuovissimi ActiBuilders! I normali mattoncini sono solo quadrati o rettangolari, così noiosi! Con ActiBuilders puoi piegare, modellare, curvare, spostare e girare! Guarda, i mattoncini ActiBuilders sono completamente flessibili! Ti aspettano moltissime ore di divertimento con ActiBuilders! Potrei fare un uccello che vola, un robot che allunga le braccia o un'auto che sfreccia! E guarda qui! Siccome gli ActiBuilders si curvano e flettono, puoi fare una corona da principessa, una collana rotonda, dei grossi occhiali, un bracciale, un anello, davvero tutto! È un divertimento creativo che insegna ai bambini colori, forme e movimento! Tutti i genitori amano gli ActiBuilders! Mi piace che gli ActiBuilders si muovano e flettano! Invece di giocare ai videogiochi, i miei figli usano immaginazione e creatività! Sembra che i bambini ci giocherebbero per ore e ore! Ma c'è di meglio! ActiBuilders è compatibile con i mattoncini che hai già! Si incastrano a pressione! Ti divertirai molto di più aggiungendo particolari originali a una normalissima casa di mattoncini! ActiBuilders è super! Perché è compatibile con quei vecchi mattoncini dimenticati nell'armadio! Gli ha dato nuova vita! I bambini li hanno tirati fuori e ora si divertono come pazzi e mi diverto anch'io! Inizia subito a divertirti! Il gigantesco set di base ActiBuilders include 170 pezzi pieghevoli, mobili e flessibili! Durano a lungo e sono facili da usare, rendendo piacevole il momento del gioco per l'intera famiglia! Riceverai anche la guida all'uso divertente per aiutarti a prendere dimestichezza! Ma se scegli il set deluxe, avrai ben 730 pezzi! Usali da soli! Oppure ridai nuova vita ai tuoi vecchi mattoncini quadrati con i nuovissimi ActiBuilders! Acquistali subito!